Salve Castori Notturni, come potete vedere questa non è notte, è giorno, ma questo è un discorso notturno perché parliamo di una figura che rappresenta il male, rappresenta la menzogna, rappresenta l'inganno una figura ancestrale che è presente in quasi tutte le religioni del mondo una figura che è stata più volte interpellata per compiere opere di distruzione parliamo del diavolo, parliamo di Satana tuttavia oggi parleremo del diavolo quando viene interpellato per compiere opere di costruzione, di edificazione questo perché il diavolo è responsabile della costruzione di moltissimi ponti in Italia e anche in Europa chiamati ponti del diavolo, famoso è il ponte del diavolo di Bagni di Lucca ad esempio ce n'è uno anche qui vicino ah, dove? quello all'Anzio Torinese ah, è vero, è vero, all'Anzio Torinese perché non andiamo a vederlo? alle mie spalle il ponte del diavolo fu costruito nel 1378 tre volte fu tentata la costruzione del ponte ma per ben tre volte il ponte franò la leggenda vuole che gli abitanti di Lanzo chiedero aiuto al diavolo il diavolo avrebbe dovuto costruire il ponte il ponte del diavolo appunto un ponte che non poteva crollare che nulla avrebbe mai fatto crollare con questa costruzione a schiena d'asino gli abitanti di Lanzo accettarono 1378 tuttavia il patto richiede un prezzo il diavolo non fa mai niente gratuitamente e il prezzo è un'anima gli abitanti di Lanzo scogliono un piano il modo per poter consegnare un'anima al diavolo senza che un membro della propria comunità venga condannato alle fiamme eterne fanno passare un cagnolino il cagnolino sarà la prima vittima di questo ponte tuttavia il cagnolino verrà preso dal diavolo e il diavolo si arrabbierà perché non è un uomo, non è un'anima non è un uomo, non è un uomo Furioso a causa di questo affronto da parte dei cittadini secondo la leggenda il diavolo si arrabbiò tantissimo sbattendo gli zoccoli sulle rocce di entrambe le montagne creando così delle marmitte ora sono chiamate le marmitte dei giganti ecco questa è una delle marmitte infatti le più piccole sono situate più in alto e sono di solito più antiche e secondo un'altra leggenda, un'altra versione queste marmitte dei giganti sarebbero state utilizzate come calderoni per le minestre preparate da parte del diavolo per i costruttori di questo ponte in realtà questo fenomeno è spiegabile dall'erosione dell'acqua che passando velocemente infatti questo fiume stura con le sue acque vorticose e forti crea queste forme all'interno delle rocce appunto le marmitte dei giganti un po' di pietra qui presente una volta ospitava un portone un cancello messo dalla gente del paese di Lanzo per evitare che dei forestieri potessero entrare nei periodi di epidemia all'interno della città ora naturalmente il cancello, la porta non esiste più forse dall'incuria del tempo è stata effettivamente ascoltata e questo è ciò che ne rimane e questa invece è la chiesa di San Rocco infatti è proprio all'inizio del ponte per questo il ponte delle volte lo chiamano anche il ponte del roc in realtà tantissimo tantissimo tempo fa qui ci sarebbe stato un lago che avrebbe diviso questa parte questa zona in due monti Monte Buriasco e Monte Basso creando appunto il fiume stura inizia La costruzione del ponte fu voluta dai principi sabaudi poiché il ponte fu fin da subito un'importante rete viaria vi passarono mercanti vi passarono gente, pellegrini proprio perché il ponte andava a collegare la valle di Susa con la valle d'Aosta in quanto le valli di Lanzo appunto di cui fa parte Lanzo Torinese di cui fa parte il ponte del Diavolo si trovano proprio al centro di queste due vallate diciamo tutto live no hai dimenticato di dire anche di Torino ah sì quindi va rifatto? no che questo ponte era importante anche a collegare Lanzo con Torino sia per trasporti che commerci quadratura diretta hai capito com'è? ho capito com'è lo facciamo? sì dai mi dobbiamo vedere questo ci sono ma non so cosa devi fare e che non salti? non salti? non salti perché? come perché? a parte che so vestito ma poi non so molto come sta con il petrolio non lo so qual è petrolio? non so è bella è acqua montana contaminata no procarioti non stai facendo un esame calmati è lo stesso effetto che ho fatto quale? quale? ho capito adesso prendevo il suo sasso? sì in pov in pov in pov riprendi così sembra come se il sasso so io perfetto manco la panza per il sasso però ho capito ho qualche gioco gratso no vai vai no tu devi tirare il sasso no tira il sasso tu dai sono pronta sei sicura? certo sto facendo già ma non dimmi prende me però eh lo sto facendo dimmo come casca dentro pronta proverò proverò a fare questo effetto il ponte del diavolo è inserito all'interno di un parco di parco del ponte del diavolo voluto intorno agli anni 70 del 1900 quindi è molto recente è un parco molto bello abbastanza piccolo ma molto molto bello quindi consigliamo a tutti di venirci di 30 ettari ho letto quanti? 30 è molto piccolo però è possibile apprezzare secondo me un tramonto bellissimo dal ponte del diavolo con lo sguardo rivolto naturalmente verso ovest il sole è veramente bello allora oggi per diciamo consolarci per le nostre questioni personali abbiamo deciso ovviamente essendo in Piemonte andare a mangiare in un posto molto particolare caratteristico caratteristicissimo il sushi quindi andiamo a provare questo ristorante che si chiama Yama Sushi si non ho preso il trance pronto allora siamo a Lanzo Turinese questo è un ponte non del diavolo dobbiamo proseguire per arrivarci mi sto facendo così bene continuo come passa l'acqua cosa devi fare sono morti il peso di Matteo